Oltre un milione di euro di sanzioni e questo è il risultato dell'operazione WAVE, condotta sulle coste calabresi dai reparti speciali dei carabinieri e da personale della Direzione Marittima Guardia Costiera di Reggio Calabria. L'operazione, denominata WAVE, i cui risultati sono stati illustrati a Catanzaro, ha impegnato nella verifica del rispetto delle normative ambientali, di igiene e sicurezza dei prodotti agroalimentari, autorizzazioni e concessioni marittime da parte delle strutture oggettive, una task force che ha operato sotto le direttive del comandante della Regione Carabinieri, il generale Pietro Salsano, il direttore della Direzione Marittima, il capitale di Vascello Giuseppe Sciarrone e il comandante della Regione Carabinieri Forestale, il colonnello Giovanni Misceo. Le operazioni sono state precedute da ricognizioni aeree effettuate dall'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valencia. Gli accertamenti già avviati a beneficio di un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, nonché a salvaguardia delle ricchezze naturali, culturali e gastronomiche della Calabria, hanno fatto registrare oltre un milione di euro di sanzioni amministrative e combinate a 61 attività, ad oggi ispezionate in stabilimenti baleari, villaggi turistici, ristoranti e strutture ricettive in genere, senza trascurare anche i settori di potenziale inquinamento, come le imprese di calcestruzze dislocate in lungo o in prossimità delle coste. Scoperti anche 60 lavoratori in nero e svariate irregolarità riscontrate, tra cui frode nell'esercizio del commercio, carenze igienico-sanitarie, occupazione abusiva di demanio marittimo, scarico illecito di acque reflue, deposito incontrollato di rifiuti speciali, violazione all'ordinanza di sicurezza balneare e mancanza della tracciabilità degli alimenti. I controlli, assicurano il generale Salsano e il direttore marittimo Sciarrone, proseguiranno per tutti gli 800 chilometri della costa calabrese.